A Palazzo Madama e Sindaco Peyron porge il saluto di Torino ai 500 imprenditori e dirigenti di azienda che partecipano al decimo congresso nazionale dell'UCID. Sono presenti numerosi deputati e senatori e i maggiori esponenti del mondo economico torinese tra cui l'avvocato Agnelli e il professor Valletta. Il cardinale Giuseppe Siri, consulente morale dell'Unione Cristiana e Imprenditori Dirigenti, legge la prolusione trattando il tema Pensiero Cristiano e Progresso Civile a Metà del XX secolo, un tema che tiene conto della ricorrenza del settantesimo anniversario della Rerum Novarum.